I miei primi anni li ho vissuti in un villaggio dove c'erano tanti alberi e mi divertivo ad arrampicarmi. Avendo vissuto quella libertà sono stata davvero molto fortunata. Sanem è sempre lì che trema, è come se avesse due mani sinistre. Non so se io dico tutto quello che mi passa per la mente, come fa Sanem. Però Sanem è coraggiosa, fa delle cose senza pensare a che cosa va incontro. Credo di avere lo stesso tipo di coraggio anche io. Sono molto felice e anche molto fiera di questo progetto. È stato veramente un momento importante per me, una svolta nella mia carriera. Che rapporto hai con Jean Yaman? Abbiamo un ottimo rapporto. Lui anche, devo dire che è molto bravo. È stato un bel viaggio insieme e spero che lui continui così nella sua carriera. Siamo amici, è una persona piena di valore, una persona a cui voglio sicuramente bene, però lavoriamo tanto, quindi non è che riusciamo a vederci così frequentemente. Però certamente è una persona a cui tengo molto. È finito dei Dreamer e dopo tre, quattro mesi. Dalla fine ho iniziato un altro progetto. Dopo otto anni è giunto il momento anche per me di affrontare un dramma. Ma c'è un fortunato al tuo fianco? Non sono insieme a nessuno. Non c'è nessuno, quindi? Nessuno? Nessuno? Grazie.